La Serie B resta a 19 squadre. È uscita intorno alle ore 18.45 la sentenza del collegio di garanzia del CONI che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Ternana e Provercelli contro la Lega di Serie B e la Federcalcio per l'annullamento della delibera del commissario federale che aveva dato il via libera al format con 19 squadre e per l'annullamento della decisione della Lega di Serie B di pubblicare il calendario 2018-2019 con questo format. Era questa la decisione più attesa ed è in parte un colpo di scena visto che nelle ultime ore i rumors principali volevano come probabile il ritorno della B a 22 squadre ma così non è stato. Nel dispositivo si legge anche che la decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del presidente del collegio di garanzia Frattini e di un componente. Di conseguenza sono stati dichiarati improcedibili per difetto di interesse gli altri ricorsi in particolare quelli della Ternana e della Provercelli nei confronti di Novara e Catania. Queste quattro squadre più il Siena, tutte ambivano al ripescaggio, disputeranno la Serie C. A tal proposito domani mattina a Firenze nella propria sede la Lega Pro diramerà i tre gironi e procederà al sorteggio del calendario che riguarda da vicino il Teramo con l'obiettivo possibilmente di far scattare il campionato già in questo weekend. Il calendario della Serie B invece resterà immutato. Il Pescara sabato prossimo giocherà a Brescia e sabato 22 riceverà il Foggia allo stadio Adriatico Cornacchia.